Come ogni 15 d'agosto, a Bibiano, frazione del comune di Capolona, è tornata alla tradizionale cena di Ferragosso. Il borgo si è acceso come consuetudine per una serata all'insegna della musica, del divertimento ed ovviamente del buon cibo con le specialità della cucina tipica eretina. Spirragnata, gelona, fatti dolciandole di cofa, di montaggio, sta cosa si vede davanti al mondo, specialmente in una serata come oggi, che tira il maestro aereo, che è veramente eccezionale. Ad intrattenere gli ospiti ci ha pensato il duo Beppe e Marco Sciocchi, a parte di cantare e ballare l'intera piazza. Grazie.